Noi parliamo di lavoro adesso, in realtà di un'esperia che sono i ragazzi e che è la cultura, quindi ho letto un po' di te, delle tue attività sul Gifoni Festival e di come sei riuscito a stipulare, soprattutto nei ragazzi, nei bimbi eccetera, questi semi di creatività, di cultura. La mia domanda era se esiste una ricetta o in base alla tua esperienza da dove incominciare? No, guarda, secondo me bisogna cominciare da una cosa molto importante, cioè considerare i bambini e i ragazzi non come il futuro dell'umanità ma come il presente, perché quando cominci a dire che i ragazzi sono il futuro in qualche modo cominci a dire ok, ora statevi al posto vostro, tocca a noi adesso e poi toccherà a voi, mentre invece tocca a loro già adesso. Quindi è fondamentale innanzitutto avere un rispetto per i ragazzi e i bambini per come sono adesso, ma non voglio essere filosofico o essere troppo teorico. Cosa significa nel pratico? Significa comunque ascoltare la loro voce, ascoltare le loro esigenze, non trattarli come esseri umani in divenire, lo sono sicuramente, ma sono già esseri umani, fondamentalmente con le loro esigenze, le loro aspettative, le loro ambizioni. E vanno raccontate quelle. Le strutture sono importanti però, questo non è da considerare come marginale. Avere delle strutture che permettono a questa credibilità di esprimersi è fondamentale, perché se non c'è quello rimane tutto sulla carta. Una sala significa abituare le persone al cinema, perché è l'unico modo che tu hai, altrimenti i ragazzi quando non hanno un cinema dove andare dentro e quindi conoscere che cosa è lo schermo, saranno abituati a pensare che il cinema si vede su un cellulare o si vede su un tablet, che significa anche considerare non più uno spettacolo visivo come un'esperienza, ma come un passatempo. Mentre invece il cinema è un'esperienza culturale e per viverla hai bisogno di una struttura adatta dove poterla vivere. Ecco, siamo 48 mila abitanti e abbiamo due sale parrocchiali. Quindi questo ti dimostra quello che dicevo prima, cioè non si può fare cultura, non si può abituare il ragazzo ad uscire fuori dalla propria isola, anche se è felice, se non gli apri lo schermo in maniera poderosa, come può essere attraverso i schermi cinematografici. Se mi dovessi dare un suggerimento da dove partire con i ragazzi? Ma con i ragazzi dovresti, secondo me, bisogna partire da una cosa fondamentale che la gente dimentica, e cioè i progetti di lettura nelle scuole. Io ho visto tantissime città che hanno subito un incredibile miglioramento grazie a questi. Quindi per esempio, prima cosa importante Mauro, è avere un evento culturale che caratterizzi la propria città. Ha fatto la fortuna di Cannes, ha fatto la fortuna di... ti dico piccole città, non le grandi, non Berlino, non Toronto, perché quelle passano già vantaggiate. Ma ti dico Ansi in Francia, ti dico Clermont-Ferrand sempre in Francia, ti dico la stessa Giffoni, Rimini, piccole città che hanno costruito un'identità molto particolare. Perché una cosa bisogna mettersi in testa, bene, con la cultura si mangia, con la cultura si fanno anche soldi, con la cultura si fa economia. Molti pensano sia un capriccio, non è vero. La cultura è un volano di... Si creano anche posti di occupazione, nuovi posti di lavoro, ed è vero, la cultura cambia i luoghi e li fa rivivere, anche i luoghi piccoli, perché si intercetta proprio un potenziale, l'anima di quel luogo. Assolutamente così. Voi avete questo lago, questo lago si presta a mille iniziative, anche se tu pensi, se tu pensi anche soltanto all'immaginare delle letture lì, o del cinema sul lago, o immaginare eventi di strada lì. Ogni città può trovare la propria identità. Magno, io ti ringrazio per questi spunti e spero di poterti invitare. Presto, Alecco. Io vengo di corsa, Mauro, di corsa.